Andiamo al segno del cancro, luna molto bella, nel toro, è una luna che vi riconcilia anche con il mondo circostante, vi fa essere anche meno aggressivi nei confronti degli altri. È strano parlare di aggressività quando parliamo di un segno figlio della luna come siete voi, però ogni tanto quando non siete soddisfatti e contenti delle cose che vi accadono, avete questa tendenza ad aggredire in questo momento verbalmente, cioè dite apertamente quello che non vi va muovendo delle critiche anche alle persone sbagliate, invece grazie a questa luna riuscirete a ritrovare l'armonia con le persone che vi circondano e quindi di conseguenza anche con la persona chiamata. Gli appuntamenti di settembre di inizio...